Inizierà domani, presso il Tribunale di Teramo, il processo per la situazione di pericolo in cui versa l'acquifero del Gran Sasso, al cui interno trovano posto le gallerie della 24 e i laboratori sotterranei dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Indagati sono i vertici di strada dei parchi, del laboratorio e di Ruzzo Reti. WWF, Legambiente, Cittadinanza Attiva e Club Alpino Italiano si costituiranno parte civile. È un appuntamento importante anche per noi associazioni che chiediamo di entrare dentro il processo come parti civili. Ci chiediamo un attenzionamento forte, non è un processo alla scienza, ma un processo per capire bene che cosa è successo e per dare tranquillità ai cittadini affinché quell'area venga finalmente messa in sicurezza, venga portato avanti il lavoro intrapreso per garantire la tutela di tutti i cittadini. Inoltre, a distanza di mesi, non è stato ancora nominato il commissario straordinario per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, che rifornisce circa 700.000 abruzzesi. Questo sarebbe dovuto essere nominato entro il 3 luglio scorso, ma è noto che ad agosto è stato individuato il soggetto in questione, che però non è ancora stato nominato ufficialmente, anche a causa della crisi del Governo nazionale. Intanto, le associazioni ambientaliste pretendono in gran voce la messa in sicurezza permanente dell'acquifero e del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, nato proprio per tutelare il Gran Sasso e il suo ecosistema. È chiaro che l'acquifero in questo momento rimane a rischio. Sappiamo che negli ultimi anni, proprio grazie a un impegno forte anche avuto da parte dell'osservatorio, tutti gli enti chiamati a controllo e al monitoraggio dell'acqua si sono veramente svegliati, in questo momento l'acquifero viene monitorato. Sappiamo che 110 litri al secondo di acqua che provengono più dalla zona dei laboratori non vengono immessi in rete e quindi non andranno nell'acqua potabile, ma è un problema serio perché significa buttare e perdere acqua che invece è dei cittadini. Però noi dobbiamo pensare alla propria messa in sicurezza di questo benedetto acquifero. Sono passati 16 anni da quando è conosciuto il problema e ci troviamo ancora nelle stesse sostanzialmente condizioni di prima e questo non è davvero accettabile per un paese civile.